Questo servizio è offerto da Fratelli Pascale, Smeca SRL, Trezene Village, M. Greco, Lorenzo Conte, Masaniello Tour. Il 10, l'11 e il 12 agosto, nel meraviglioso scenario di Punta Licosa a Castellabate, si è svolta la prima edizione del Festival della Dolce Vita, strutturato in tre serate all'insegna della creatività, della musica, del cinema, del teatro, della letteratura, dell'enogastronomia, della pittura, scultura e fotografia. La manifestazione vuole contribuire a migliorare la vita degli individui rendendola più felice ed intensa. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Cilento Film Music Festival, in collaborazione con Pippo Pascale e Gianni Petrizzo, è stato patrocinato dal comune di Castellabate e si è tenuto nella piazzetta comunale. Nella prima serata dedicata alla letteratura, il Festival ha ospitato lo scrittore Silvio Perrella, che ha presentato il libro Io ho paura, edito da Neri Pozza. Presente all'iniziativa anche l'attore Andrea Renzi, che ha letto alcuni brani. Interessante oltre al testo anche l'idea di coinvolgere il pubblico presente, che interagendo con lo scrittore ha esposto le proprie osservazioni. Nella seconda serata presentata da Raffaella Giaccio di Cilento Channel, il tema era il cinema, con la proiezione del film Il maestro più Margherita, regia di Gianni Petrizzo, sceneggiatura di Giovanni Laurito, prodotto da Film Studio e vincitore del Venus Italian International Film Festival di Las Vegas, come miglior film e migliore regia. Al termine del film, il regista si è confrontato con il pubblico rimasto entusiasta di questa opera girata nel Cilento, che ha coinvolto un'intera comunità locale, quella di Canna Longa. L'ultima serata, del 12 agosto, ha ospitato scrittori locali, nazionali ed internazionali, Franco Pascale, Carlo Pellegrino, Lisa Pascale, Cippi Martinelli, Paola Macchi, Massimiliano Goffi e Alessio Noè. Gli autori hanno presentato i loro ultimi libri e si sono confrontati in un dibattito pubblico dal titolo L'uomo e il territorio. Al termine del festival, l'assessore del comune di Castellabate, Domenico Di Luccia, ha ricevuto il premio Dolce Vita, che viene conferito a personalità che si sono distinte in ambito locale, nazionale ed internazionale. Bilancio più che positivo, dunque, per il festival della Dolce Vita, che ha ricevuto il supporto di alcuni sponsor locali, tra cui Fratelli Pascale, Smeca SRL, Trezene Village, M Greco, Lorenzo Conte, Masaniello Tourist. Un plauso ai collaboratori Andre Giaccio, Giuseppe Pascale, Franco Parrillo, Gerry Giaccio e all'artista Angela Di Biasi, che ha esposto i suoi quadri e realizzato il premio Dolce Vita.